Si è svolta venerdì scorso nelle principali piazze italiane e siciliane la manifestazione Mi Illumino di Meno, iniziativa promossa dalla trasmissione Radio 2 e Caterpillar, giunta alla sua quattordicesima edizione. Mi Illumino di Meno è diventata la festa degli stili di vita sostenibili. Negli ultimi anni l'efficienza energetica ha rivoluzionato non solo aziende e consumatori, ma anche il mondo del marketing. Basti pensare che le lampade ad incandescenza, che la trasmissione Rai invitava a sostituire con lampade al risparmio energetico, oggi non esistono più, ed è sempre maggiore la consapevolezza nel consumatore del ritorno economico ed ambientale di scelte ecosostenibili. Quest'anno si festeggia il compleanno del protocollo di Kyoto, che si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni al minimo possibile, nel tentativo di salvare la terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici. Un'iniziativa simbolica e concreta, che come ogni anno vede spegnere le luci delle principali piazze e monumenti d'Italia e di tante case di cittadini. Anche Catania ha aderito all'iniziativa, che ha visto la presenza di un nutrito gruppo di persone e raggiunge le piazze a stessi colo con l'autobus messo a disposizione dalla AMT gratuitamente, per poi prendere parte ad una passeggiata che ha toccato le principali vie del centro storico e che ha visto spegnersi i lampioni dell'illuminazione pubblica al passaggio del corteo. Alla manifestazione hanno aderito le sezioni locali di Lega Ambiente, Associazione Mobilità Sostenibile, FIAB, Mountain Bike Sicilia SD e Comune di Catania. Anche il Comune di Riposto ha aderito all'iniziativa con una manifestazione organizzata dall'Ion's Club Giarre Riposto nella sala del vascello del Palazzo Municipale. Le luci delle principali piazze di Giarre Riposto sono state spente al tramonto. In piazza San Pietro è stata realizzata una suggestiva scritta Lions con appositi cedi che hanno illuminato il sito. L'associazione filantropica ha donato al Comune di Riposto il progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare in una delle scuole del territorio. Quindi ha avuto luogo la conferenza sul tema Proteggere il nostro pianeta, aperta dal presidente Antonio Anastasi e dal presidente di zona Giuseppe Camarda, cui sono sosseguiti gli interventi del vice governatore Angelo Collurà, del presidente di circoscrizione Salvino Furneri, del sindaco di Riposto Enzo Caragliano e dell'assessore Paolo Emanuele, che hanno ringraziato il presidente Anastasi per l'importante progetto ricevuto in dono. Gli interventi di Giovanni Pavone, Business Development Manager della Sicil Grassi S.P.A., e Carlo Brune, esperto nella gestione dell'energia della ESCO MSA Energy S.R.L., si sono concentrati sui temi del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dell'energia alternativa. Inoltre, il dirigente della Sicil Grassi, che ha contestualmente spento l'illuminazione del proprio piazzale nella zona industriale di Catania, ha illustrato un progetto che offre il servizio di ritiro e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti che vengono prodotti dalle utenze domestiche. Un'iniziativa che ogni anno cresce sempre di più e sensibilizza un maggior numero di persone sull'importanza del risparmio energetico.